Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stappa di oggi 14 novembre. I temi fondamentali sui giornali riguardano tutti quanti ovviamente l'acqua alta di Venezia e quello che sta succedendo in una delle città simbolo del mondo, ovviamente non soltanto dell'Italia. Il Corriere della Sera titola Venezia in divisa, ognuno titola secondo i suoi schemi editoriali, la mazzetta non asciugono l'acqua di Venezia, è quello che invece è il titolo del fatto quotidiano, ovviamente sempre il giornale col codice di procedura penale in testa al suo editore, direttore. Chi invece annega Venezia? Secondo il giornale dall'altro punto ecologisti, sinistra e magistrati. Insomma tutto quello che riguarda Venezia oggi è diventato anche tema politico, se volete avere il pezzo migliore su quello che è successo a Venezia, se posso permettermi su quello che è il Mose, cioè il sistema che avrebbe dovuto attraverso delle dighe evitare l'acqua alta a Venezia, insomma il pezzo migliore è di Jacopo Giliberto, oggi sul Sole 24 ore, che vi spiega esattamente come funzionano queste paratie, da quando sono stati effettivamente iniziati i lavori, perché si sono interrotti e qual è il loro sistema col quale si sarebbe dovuto, come si dice, salvare Venezia dalle acque alte, posto a che il vero problema di Venezia, sostiene Jacopo Giliberto tra i tanti problemi di Venezia, è lo sprofondamento di Venezia che deriva da atteggiamenti industriali del porto di Marghera di risalenti a 40-50 anni fa. Insomma potete trovare tutto e di più su questa acqua alta che peraltro porta alcuni a fare alcune considerazioni incredibili, io leggo oggi Sergio Rizzo, col quale ho discusso ieri sera in televisione, che fa il pezzo di Repubblica, sapete su che cosa sono fatte le prime dieci righe del pezzo su Repubblica di Sergio Rizzo, contro i negazionisti del riscaldamento globale. Il tema fondamentale è Viva Greta e i giornalisti alla page, quelli che fino agli anni 60 erano comunisti e oggi sono ambientalisti, se prima il problema era la religione comunista, oggi è quella ambientalista, quindi c'è Venezia che affoga, è successo in realtà che il Mose e l'emergenza qualta nascesse nel 1966, perché nel 1966 la qualta fu più alta di quella di ieri e però il problema oggi sono i negazionisti del riscaldamento globale. Altra considerazione da fare, lasciamo perdere le mazzette del Mose, guardate ce n'è di tutto su questa roba del Mose, su questo anzi la cosa che vi consiglio di leggere è il magistrato che li ha arrestati quelli delle mazzette, compreso il forza italista Galan e il magistrato dell'organizzata si chiama Nordio, uno dei più grandi editorialisti secondo me oggi sulla faccia del giornalismo italiano e Nordio dice c'erano le ruberie ma la burocrazia ha complicato tutto, lo dice lui che ha arrestato i tangentisti, chiaro? ha detto sì, c'erano le stecche, ma la burocrazia è quello che ha distrutto tutto, in una certa misura questo lo scrive anche Cerasen, un bellissimo pezzo sul foglio in cui dice colpevole non è il cambiamento climatico, ma lo Stato che ha autorizzato il Mose nel 2003, 2003 e poi racconta quest'altra cosa incredibile per cui le ditte che dovevano fare il Mose per una legge statale erano anche quelle che dovevano controllare che il Mose funzionasse bene, ma il punto fondamentale di questa vicenda del Mose è che è diventata, voi direte, noi giornalisti scontro politico eccetera, voi mi dovete spiegare che cavolo ci stava a fare ieri, cosa ci stava a fare ieri Conte a Venezia, perché come leggo sui giornali di oggi è stato rimandato di una settimana il Consiglio dei Ministri che si occupa dell'ILVA, allora Conte a Venezia oggi fa un tweet, ho visto l'edicolante che ha perso la sua edicola, saremo vicini ai Veneziani, no, no Conte, tu non devi essere vicino ai Veneziani, ai Veneziani c'è il Sindaco che è vicino, Zaia che è vicino, le istituzioni che sono vicini, tu devi stare a Roma a risolvere 10.000 dipendenti dell'ILVA che grazie alle cazzate che state facendo voi, non al cambiamento climatico, non ai venti di 100 km all'ora, non allo sprofondamento ineluttabile di una città per la quale si dovrebbero fare opere pubbliche che da 30 anni non si fanno, non quello, ma un cavolo di norma che voi avete fatto e cancellato in Parlamento è l'alibi per cui gli indiani se ne stanno andando via da Taranto e tu stai lì che fai la passerella con l'aria dolente a Venezia con gli stivaloni, con la tua scorta che non rompe altro che le palle a Venezia, oggi la scorta, senti la Roma con te, a Venezia servono persone che mettano a posto l'acqua, che riescono a risolvere il problema delle basiliche inondate, che diano una mano ai poveracci, non conte, che non serve a nulla nella sua inutile riunione in prefettura, cerchiamo di risolvere il problema ILVA che in realtà oggi i giornali ci spiegano è lontanissimo dall'essere risolto, perché è stato rinviato il Consiglio dei Ministri, l'ipotesi adesso che si fanno è ricordate alternative e rendere di nuovo ammissibile il famoso scudo penale, quello che lo stesso conte a Osaka diceva che era un privilegio medievale quello di lasciare un scudo penale, non agli indiani di Mittal, ma mantenere quello che c'erano gli amministratori statali dell'ILVA, lui quello non voleva, insomma sulla questione dello scudo penale secondo il messaggero il Movimento 5 Stelle ci starebbe ripensando, ma nel Movimento 5 Stelle oggi c'è un gran casino, lo dice lo stesso suo giornale chissà quali retropensieri avrà il fatto nell'indicarlo, cioè stanno cucinandosi Di Maio, ma il foglio dice Di Maio in realtà cerca di riportarsi il partito a casa e di fare una nuova segreteria, sembra veramente di stare nel partito socialista di anni o nel partito democristiano. Va bene, Travaglio oggi ci spiega perché le manette sono importanti, però Travaglio, toc toc, vorrei che ti fosse un pochino chiaro quando scrivi di economia di cui non capisci assolutamente nulla perché il tuo codice di procedura penale ti impedisce di capire l'economia, ecco l'economia e anche la finanza e anche la guardia di finanza sono un po' diverse dal codice di procedura penale, lui si lamenta che in Italia è un disastro perché soltanto il 5% di quello che viene accertato è sotto la sogna di punibilità e tutti la passano liscia, solo il 5% quindi viene in realtà di quell'evasione accertata viene recuperata. Toc toc Travaglio, sai che cos'è un accertamento con questa brutta parola di cui schisse un libro fantastico liberi libri? L'accertamento non vuol dire un'indagine preliminare, non vuol dire nulla, possono vivere a casa tua a fare un accertamento per vedere i tuoi conti indipendentemente da qualsiasi sospetto, anche perché gli accertamenti si fanno a campione, anche perché gli accertamenti si fanno sugli algoritmi dell'ISA che come dice giustamente il Corriere della Sera, ma come dicevano i commercialisti da anni sono una cagata pazzesca e ti danno un voto in pagella ridicolo anche se dichiari 15 milioni di euro ma magari sono 600 mila euro di trasporti in meno rispetto all'anno scorso, insomma l'accertamento non è neanche lontanamente una presunzione di colpevolezza e il fatto che soltanto il 5% di quelli che sono accertati poi alla fine pagano delle sanzioni nasce semplicemente dal fatto che tutti noi possiamo essere accertati e non essere affatto evasori, molto meno di quello che è successo oggi all'Ara Comi, non c'è sui giornali, che è stata arrestata per una serie di capi di imputazioni incredibili su 30 mila euro, 15 mila euro, voi direte che gli è dato tra privati, scambi tra privati, io conosco l'Ara Comi Damini, l'ho invitata tante volte in trasmissione, ci metterei una mano quasi sul fuoco così che lei non ha fatto nulla di illecito penalmente, corruzione le danno tutti quanti i magistrati, mi auguro che quei fenomeni da tastiera che già la prendono in giro, la danno per colpevole, la stanno massacrando sui social, siano così solleciti nel scusarsi quando e come mai arriverà una sentenza, perché in questo paese le sentenze le danno i giornali nel primo giorno e poi dopo quando si viene assolti non le danno nessuno. Tra l'altro ci sono altre due notizie che vi voglio segnalare, una è il famoso neossessore alla cultura di Napoli, quelli che urlano contro Salvini, la commissione Segre eccetera, voglio che sappiano che all'assessorato alla cultura di De Magistris è arrivata una signorina che ha detto, ve lo dico io che ha detto, gli israeliani sono dei porci, chiaro? Gli israeliani sono dei porci, questo lo dice il nuovo assessore della cultura di Napoli, accecati dall'odio e traditori della Shoah, i sionisti sono come i nazisti, i sionisti sono come i nazisti, rompono poi le palle a noi, perché noi che pensiamo che la commissione Segre sia una stupidaggine e che la destra ha fatto male non ad astenersi, ma addirittura doveva votare contro, abbiamo un assessore a Napoli che dice che i sionisti sono contro i nazisti, tutti zitti tranne meritivolmente. Oggi il tempo di Becchis che ci apre, oggi il Corriere del Mezzogiorno l'ha intervista questa povera signora, fanno anche un fondo su questa povera signora, dicendo forse la meglio raggiunta precedente, ragazzi, una che dice che i sionisti sono come i nazisti, bisognerebbe portarla davanti alla signora Segre e chiederle che cosa le facevano i nazisti a lei e che cosa fanno i sionisti oggi, secondo il nuovo assessore alla cultura a Napoli. Ecco, questo è il tema, l'antisionismo, l'antisemitismo, da dove nasce? Da Salvini e da Meloni, da Porro, da Del Debbio, da Giordano o dall'assessore alla cultura di Napoli, secondo voi? Immigrazione, la Cassazione dà ragione a Salvini riguardo al fatto, sostiene il giornale, che per avere l'asilo è necessario dimostrare di essere scappati da una persecuzione, ma invece il Corriere della Sera dice che in realtà la Cassazione dà ragione ai critici dei decreti sicurezza per cui togliere l'asilo non si può fare in modo retroattivo. L'ultima notizia riguarda la finanza, dovete stare molto attenti perché soltanto Isabella Bufacchi e il Sole 24 ore oggi meritevolmente ce lo ricordano in prima pagina sul quotidiano finanziario, e cioè i tedeschi stanno salvando una banca che si chiama Nord LB e voi dite chi se ne frega, 3 miliardi di prestiti al settore dello shipping che sono andati a puttane e la banca stava saltando, ma c'è un piccolo dettaglio, sapete chi salva questa banca? Sono le cosiddette Landesbank, cioè le banche pubbliche e cantonali, regionali della Germania e voi direte, beh, bene, questo in realtà è contro tutte le normative europee per cui le banche bisogna farle fallire, per cui gli azionisti devono pagare dazio, per cui gli obbligazionisti subordinati devono perdere i loro quattrini, per cui non ci possono essere aiuti di Stato pubblici per salvare le banche, tant'è che in Italia fu evitato, fu reso impossibile salvare le banche italiane con i soldi delle banche del fondo interbancario, e allora c'è ragione, bene, onado il Sole 24 ore a dire, ragazzi, ma perché in Germania si possono salvare le banche con i soldi pubblici, mentre in Italia le banche si salvano, non si salvano e si mandano al macello quando saltano? Qual è la differenza di comportamento tra le due, posto che per quanto mi riguarda il fatto che i privati debbano pagare il salvataggio delle banche mi sembra una cosa assurda che io come contribuente debba pagare il salvataggio della banca, la banca se fa male salta, dal mio punto di vista, tutelando ovviamente i depositanti, ma per il resto la banca è un'azienda come le altre, ma questo è un dettaglio, la vera cosa fondamentale è che i tedeschi può quello che gli italiani non può, come diceva uno a Roma a GBR, io può, tu non può, e questo vale per i tedeschi. Ciao!